Ok, allora ci siamo tutti, siamo in questi giorni molto caldi di giugno, quindi cercheremo di vedere stasera le animazioni, un argomento molto importante sulle animazioni che sono le animazioni che si appoggiano al rigging. Allora, nell'ultimo incontro abbiamo visto come fare dell'animazione usando i keyframe, intanto prima cosa vi chiedo se i keyframe vi tornano, cioè se avete qualche domanda ancora sul keyframe, keyframe sono le istantanee di animazioni che si fanno su dei singoli oggetti che si muovono e che consentono di creare delle animazioni anche complesse. In realtà abbiamo fatto keyframe per tentare di far ruotare degli oggetti, di fare un po' una specie di orbite, di muovere qualcosina. La cosa fondamentale delle keyframe è che si deve prendere un oggetto, una mesh e registrarne le posizioni progressivamente. Quindi si posiziona su un keyframe e poi dopo in quel keyframe si dice che la posizione e la rotazione, la scala di quell'oggetto sia registrata in una sorta di registratore che poi fa il play di tutti i keyframe. Si chiamano keyframe perché fra un keyframe e l'altro, se l'oggetto ad esempio in un keyframe è girato tutto a zero gradi a sinistra e nel secondo keyframe, dopo tre secondi e girato di 90 gradi, il blender è in grado di costruire da solo l'animazione che è esposta, che muove l'oggetto dalla prima animazione, dal primo keyframe al secondo keyframe. Quindi questa è una cosa che se no dovreste essere voi a costruirvi ogni frame, cioè ogni singola posizione della mesh. Quindi la tecnica del keyframe è fondamentale perché aiuta a creare delle animazioni evitando di disegnare tutti gli step intermedi. Non so se avete capito il concetto. Non so se sapete come sono fatti i cartoni animati. I cartoni animati negli anni 20-30 a Walt Disney, quando faceva un cartone animato, cosa faceva? Doveva disegnare una scena e poi doveva disegnare tutte le immagini che costituivano la scena, una dietro l'altra. E quindi per fare un secondo di registrazione di un'animazione, cioè di un cartone animato, doveva disegnare 20 disegni. Ora, la stessa cosa fatta adesso con Blender vorrebbe dire che ogni animazione di voi dovreste fare 20 movimenti della mesh per fare un secondo. Quindi prendere la mesh, ruotarla un pochino, scattare la foto, poi ruotarla un altro pochino, muoverla, scattare un'altra foto, cioè prendere un keyframe e così via. Invece il keyframe, per definizione, lo prendete all'inizio di un movimento e alla fine di un movimento. Quindi supponiamo che io sia qua, adesso qui sono, non so se mi vedete, sono al centro di questa pedana e metto il mio keyframe. E poi mi muovo e vado in un'altra posizione e qui metto un altro keyframe. Tutte le posizioni intermedie, quelle che mi uniscono tra il primo keyframe e l'ultimo keyframe, vengono calcolate automaticamente da Blender. Quindi è possibile creare dei movimenti abbastanza complessi senza doverli dipingere. Dipingere, cioè creare, diciamo, quelle mesh uno per ciascuno. Ora però, nello studio, nell'esempio che ho fatto vedere degli oggetti che si ruotavano, che animavano, qualcuno a un certo punto aveva messo anche la scimmietta. E giustamente qualcuno di voi diceva, vabbè, animare la scimmietta nel senso che muoverla, ruotarla, è un discorso, ma è molto diverso animare una scimmietta che sorride, che parla, che annuisce, insomma, che muove le orecchie, no? Come diceva Maria Luisa Faccini. Ora adesso, in questo incontro, vedremo come si fa a far muovere le orecchie e fare un'animazione che permetta di definire anche delle espressioni del volto, della scimmietta. Ok, questo stesso concetto viene applicato normalmente tutti i giorni anche nel rigging degli avatar. Vedete questo avatar mio che si muove, infatti si muove con animazioni un po' bruttine, ma comunque io cammino. Ora, questa camminata, oppure questo salto che vedete che io faccio, uff, non riesco più a uscire. Ok, tornato. Ok, queste animazioni che vedete fare al mio avatar sono animazioni che vengono fatte attraverso un rigging. Rigging vuol dire che dentro la mesh che rappresenta l'avatar, il corpo dell'avatar, sono infilate delle ossa. Si chiamano proprio ossa. E queste ossa cambiano, modificano la mesh e riescono a far ruotare le braccia, a far alzare, abbassare, insomma muovere la mesh e farla come si vuole. Ok, quindi questo rigging vuol dire sostanzialmente inserire delle ossa, cioè un'armatura. L'armatura sarebbe lo scheletro. Quindi mettere uno scheletro dentro un oggetto o un avatar e poi cominciare a far muovere la mesh seguendo l'armatura. Ok, quindi domanda, ci sono, ci sono, cioè così come ve l'ho descritto, come vi sembra il rigging? Vi sembra che sia comprensibile come funziona? Quindi il concetto di mettere uno scheletro dentro un mesh e grazie allo scheletro praticamente deformare la mesh in modo tale da poter procedere all'animazione. Allora, se questo è chiaro, adesso andiamo in Blender e vi farò vedere. Sulla sinistra vedete che abbiamo una Susanna e sulla destra vedete che è la Susanna con lo scheletro dentro. Qui ho creato, non so se si vede, su Zoom ed è che gli ho messo qualcosa come uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici ossa. Queste ossa praticamente servono per poter animare la scimmietta. L'animazione finale, qui ve l'ho fatta vedere, è già fatta, sostanzialmente è questa. Cioè praticamente io prendo questo frame, uno, e vedete che se io muovo il frame, non so se vedete qua che la scimmietta si altera e praticamente cosa fa? Esegue un movimento in cui si aggrotta, cioè abbassa gli occhi e muove le orecchie. Quindi questo è un esempio stupido, però vedete se lo vedo dal lato si vede meglio, cioè praticamente vedete che le orecchie praticamente si... L'altro qui potrei anche fare un... Quindi scendiamo l'Object Mode e poi selezioniamo la Mesh e la facciamo Shade Smooth, per dire così, possiamo vedere la stessa animazione praticamente in modalità Smooth. Comunque, non ha importanza la modalità, in realtà è il fatto che vedete che sono riuscito a animare questa scimmietta. Quindi vi interessa vedere come si fa a mettere lo scheletro in una Mesh? Sì? Ok. Allora, premetto che il video l'ho già fatto e in realtà il video avevo già fatto qualche mese fa nel corso di Godot un video dove animavo un batterio. Allora, il concetto dell'animazione di un batterio poi ve lo darò anche come video in questo corso, però questa sera vi farò vedere la stessa animazione, cioè simile a quella che abbiamo fatto per il batterio, magari con qualche osso in più, però per farvelo vedere su un oggetto un pochino più complicato di un batterio, perché se no sembra sempre che giochiamo a cose troppo semplicistiche. In effetti l'obiettivo di questi corsi non è quello di farvi diventare animatori provetti, non avete ormai o modellatori di blender che fanno tutto. E l'obiettivo è quello di darvi delle basi e delle curiosità. Quindi poi se da questo riuscite o voi direttamente o magari anche con le vostre classi o con altri amici ad andare più avanti, sicuramente tutto è guadagnato, quindi no, esatto. Quindi il concetto è impariamo tante cose, magari non le sappiamo fare in maniera professionale. Vi ho già visto che per fare queste cose in maniera professionale bisogna lavorarci dieci ore al giorno, dodici ore al giorno per tutta la vita e questo fanno gli animatori professionali. Voi che avete già le vostre dodici ore del giorno già impegnate peraltro, probabilmente questa cosa qua potete prenderla con un pochino più di tranquillità. Ecco, cioè provare a fare delle prove. Allora, se vi è chiaro dove vogliamo andare a parare, tutta questa introduzione serviva per farvi vedere dove vogliamo andare, allora adesso partiamo da zero, quindi facciamo file, new, e partiamo da una situazione in cui non c'è più la scimmetta. Quindi partiamo da quello che avete anche voi. Mettiamo lo screencast key in modo tale da vedere i tasti che premiamo. Ok? E a questo punto la prima cosa che facciamo è quella di mettere Susanna nel nostro schermo. Quindi clicchiamo il cubo, X per cancellarlo, e poi facciamo Shift A per inserire Monkey, che sarebbe la nostra Susanna. Ok? Questa qui sarebbe la nostra Susanna. Ora, per inserire questa Susanna che adesso di per sé non ha nessun movimento, il movimento, cioè il rigging, lo facciamo noi. Quindi, prima vi ho detto che la premessa è quella di costruire delle ossa. Quindi, per costruire delle ossa dobbiamo fare un add e inseriamo che cosa? Un'armatura. e in particolare mettiamo un single bone. Quindi, vedete che è stato creato un primo osso. Ora l'osso, come vedete, si vede pochino perché è infilato, è annegato dentro la mesh. In realtà, per vederlo meglio, dobbiamo andare sulla opzione che abbiamo sulla destra, dove c'è l'omino che corre verde. Vedete che le parti verde sono le animazioni. Ecco, una cosa che mi piace molto di questo blender nuovo, non so se l'avete notato, è che ci sono dei colori, qui, ad esempio, le parti rosse sono associate alle texture, ai materiali, le parti blu sono associate alla fisica, altre cose un po' strane, le parti verdi sono le animazioni. Allora, le animazioni, in particolare l'omino che corre è tipica animazione e qui per vedere le caratteristiche dell'animazione andiamo in viewport display qua e vedete che noi abbiamo la possibilità di definire in front. Questo in front permette di rendere, di vedere il raggio X l'osso, quindi permette di vedere l'osso come se non ci fosse, come se la scimmietta non ci fosse. Questo modo di vedere il raggio X è un pochino curioso, un pochino strano, però ci permette di vedere come è fatto un osso in blender. Allora, in l'osso dell'armatura vedete che è fatto da una testa e da una coda. Allora, come è fatto a distinguere la testa dalla coda? Vediamo un po' se mi date un scrivete pure nella zoom nella chat di zoom così vedo anche un pochino pallino. In realtà il pallino c'è sia sotto che sopra. C'è un pallino sotto e sopra e con la testa è molto più grande e la coda invece è molto più piccola quindi è una specie di rombo in cui la parte è da freccia sostanzialmente in cui la parte sottile rappresenta la coda come è giusto che sia perché le code si restringono cioè la coda di qualunque animale normale di un gatto di un cane va a restringersi no? e invece la testa è la parte grossa dell'osso ok? Quindi vi è chiaro questa distinzione? No, ve lo dico perché io ho avuto diversi problemi all'inizio a distinguere la testa dalla coda ecco perché bisogna distinguere la testa dalla coda perché le ossa delle armature hanno la interessante proprietà di girare attorno a un perno quindi le possiamo ruotare e tipicamente le ossa ruotano attorno alla testa quindi per capire come ruota un'armatura bisogna capire qual è il punto attorno al quale ruotano comunque lo vedremo meglio fra poco comunque vi è chiaro che la testa è dove ruota tutto quindi la testa quindi se questo è un osso questo osso ruoterà se io lo ruoto questo qui ruoterà nel senso che la coda se non andrà a sinistra a destra e la testa rimarrà fissa perché è il perno attorno al quale ruoto ok allora a questo punto andiamo avanti e andiamo in edit mode quindi anche le armature si comportano come se fossero delle mesh e per modificare un'armatura si va in modalità edit e quando si è in modalità edit si può cliccare o sul fine della coda o sul inizio della testa quindi vedete che si possono selezionare i due pallini i due pallini sono o la coda o la testa e questo si può fare solo quando siamo in edit mode cioè modalità modifica a questo punto dobbiamo estendere lo scheletro in modo tale da raggiungere in qualche modo le orecchie e la testa quindi questo lo possiamo fare estendendo praticamente il per esempio da qua possiamo stendere con E cioè se noi stendiamo E vedete che ci compare un osso nuovo quindi l'estensione in un'armatura aggiunge un osso e questo osso lo spostiamo verso l'orecchia ora per essere sicuro che lo spostiamo veramente verso l'orecchia dovremmo guardarlo tipicamente lo guardiamo con 7 per vedere con G cioè lo spostiamo verso l'orecchia e poi facciamo ancora un'altra estrusione per ottenere un altro osso che arrivi fino all'estremità dell'orecchia quindi abbiamo fatto ecco però vedete che stendendola in questo modo qua non la copre quindi faccio 1 il testellino numerico e poi faccio G in modo tale che l'osso entri e sia praticamente tutto dentro l'orecchia vi chiaro questo meccanismo con cui ho ho creato ho creato diciamo delle ossa che vanno verso l'orecchia quindi notate che a questo punto perché questa armatura è corretta perché quando poi ruoterò questo osso l'osso ruoterà attorno alla testa e quindi l'orecchia farà andrà in su in giù come ci aspettiamo se invece avessi fatto l'osso rovesciato l'orecchia avrebbe ruotato attorno la testa che magari era qua beh ad armature è proprio quello che abbiamo fatto cioè ad armature single bone quindi dovete sempre avere un po' la capacità di lavorare o muovendosi così oppure come faccio io premendo 7 o 1 o 3 per vedere in prospettiva diciamo di fronte dall'alto e di lato il vostro oggetto quindi poi metto in centro allora così come abbiamo fatto l'armatura dell'orecchia di destra facciamo l'armatura dell'orecchia di sinistra quindi facciamo estrudiamo e poi estrudiamo e poi vediamo di fronte vedete che appunto in questo caso l'estrusione è andata male nel senso che dobbiamo andare praticamente ah no scusate sono estruso della parte sbagliata facciamo ctrl z ctrl z quindi andiamo di nuovo qua estrudiamo verso l'orecchia qua e poi estrudiamo verso la punta dell'orecchia andiamo in alto e aggiustiamo il tiro quindi questo lo mettiamo qua poi clicchiamo qua con G mettiamo qua e poi prendiamo di fronte e vediamo più o meno se l'abbiamo sì sì si può anche duplicare se siete diciamo che si può anche usare il mirror potete usare tutto quello che volete potete duplicare dei dei pezzettini se volete comunque ci giocate diciamo che per cose relativamente semplici come questa il fatto di continuare a estrudere è interessante ora facciamo facciamo altra estrusione quindi estrudiamo per arrivare praticamente qua prendiamo un osso eh no estrudiamo da qua sette quindi vedete che bisogna sempre fare molta attenzione quindi arriviamo fino qua quindi siamo qua più o meno vediamo di lato e facciamo un'estrusione quindi facciamo G e vediamo che questo osso lo estrudiamo in modo tale che arrivi alla chiamiamola un po' barbetta no? guardiamo di fronte va bene quindi abbiamo l'estrusione della della barbetta oh ragazzi fate quello che vi viene più semplice non c'è nessun problema io faccio così perché se comincio a duplicare poi mi mi si sconfondo nel senso in questo caso e infine questa armatura la finiamo vedete che abbiamo già fatto uno due tre quattro cinque sei sette aggiungiamo ancora due ossa almeno per arrivare fino alle sopracciglia della mia della mia cosa quindi clicchiamo qua anzi clicchiamo qua poi andiamo di fronte e facciamo un'estrusione per arrivare fino in cima e poi facciamo un'altra estrusione per arrivare fino in cima per rappresentare praticamente ecco questa qui dovrebbe muovere la parte di sopra degli occhi e del dunque le ossa il modo in cui partono le ossa è un pochino complesso qui faccio un esempio molto semplice ci sono dunque le ossa partono tipicamente da un punto centrale e poi possono essere come come ho visto adesso estrudersi in questo modo oppure si possono anche fare delle ossa che sono che sono diciamo solo collegate ma non attaccate quindi si possono fare delle ossa che sono che dipendono dall'osso di partenza ma sono magari a 30 centenari di distanza questo si fa ad esempio per per fare il bacino cioè se si fa il regging del bacino si fa una cosa diversa però in questo primo esempio adesso le ho fatte tutte che estrudono da un osso principale quindi si fa così nel caso del rigging del corpo umano dello scheletro umano in realtà ci sono delle regole abbastanza ferre per cui in pratica si fa un osso esterno che esce se c'è il corpo umano si fa un osso che esce dalla schiena e poi sulla base di questo osso si fanno praticamente l'ossa che va sul corpo verso l'alto poi si fanno le braccia e poi si fa la testa e poi si fanno le due gambe ma ripeto il rigging del corpo umano stasera non lo faccio vedere perché se no non basterebbe il tempo sì se no in alternativa come diceva Crai le armature diciamo più diffuse come quelle del corpo umano molto probabilmente non le dovete neanche fare voi perché si trovano già costruite cioè se voi usate Make Human oppure Avastar oppure qualche altro strumento già predisposto per fare animazioni lui vi costruisce da solo le armature però la mia idea era quella in questa lezione di Blender di farvi vedere come si faceva un'armatura da zero proprio perché voi sappiate che non c'è cioè che non è una cosa così devastante mi sembra complicato fare le armature fatte più o meno come vi ho fatto vedere qua poi dovete fare un pochino dovete fare se volete fare questa tra l'altro fate le armature così poi potete applicarle ecco con Blender si può fare armature a qualunque livello ad esempio si fanno armature anche per far aprire un libro per far ruotare cioè per far aprire le pagine di un libro per fare una catena che si muove per fare un mulino che si si storce insomma si possono fare delle cose che sono adatte per qualunque tipo di Mesh mentre invece Make Human e Avastar fanno soltanto armature per uomini come dice Maria Luisa quindi se imparate le basi del rigging allora si confonde se vi confonde troppo potete anche invece che mettere octaedral qua mettere stick e quindi l'armatura si vede semplicemente come delle come dei bastoncini che dà un pochino meno fastidio oppure togliete in front e non si vedono solo che il problema è che se non le vedete diventa poi difficile fare il passaggio successivo quindi il suggerimento è che quando poi le animate è meglio abituarsi a vedere in modalità trasparente se come vi sembra il il vederle con come stick che sarebbe l'altra sì ci sono gli stick oltre agli stick ci sono altre possibilità si possono vedere anche come b-bone che vuol dire che sono semplicemente dei dei come sarebbe specie di rettangoli che però mi confonde sono troppo esaustivi oppure envelope che li fa vedere in questo modo che però anche lì secondo me è troppo è troppo intrusivo oppure v-wire che li fa vedere come soltanto dei filetti quindi forse se stick octaedral allora octaedral ecco octaedral ha il vantaggio che vi fa vedere chiaramente dove sta la testa no? la testa e la coda che può essere interessante se a un certo punto vi danno fastidio fate in stick se anche stick vi dà fastidio andate in wire e in wire praticamente diventa meno intrusivo quindi quale scegliete? allora noi per perché è più semplice da capire usiamo le octaedra va beh allora ah poi vi raccomando se vi piace il rigging questa cosa magari lo potete vedere anche altri tutorial in giro dove insegnano come fare armature alcune le ho fatte anche io anni fa allora le teste non sono tutte in alto vedete vedi che questa testa qua in basso questa testa qua in alto ma rispetto a questa a seconda di come è messa l'osso quindi le teste ad esempio sono vertono tutte su alcuni punti centrali tipo queste teste spuntano tutte su questo punto quindi tutte ruotano attorno a questo punto e tutte queste altre osse ruotano attorno a questo punto e poi ci sono le teste intermedie degli arti tipo questo ok allora tutto chiaro fin qua ma queste non sono neanche tante come osse le hanno fatte relativamente poche allora andiamo avanti e facciamo allora la prima cosa una volta fatto la mesh e l'armatura occorre dire a blender che quella mesh deve essere guidata da quell'armatura tra l'altro il termine rigging sapete da dove deriva rigging e il meccanismo cioè rigging sono le tele dei dei galeoni insomma delle navi che però si usa il termine rigging anche per indicare i fili che collegavano i burattini con cui si tirava una linea una corda delle cordicelle e queste cordicelle tiravano a sé i pezzi del burattino e questa è la stessa cosa cioè noi vogliamo fare in modo tale che quando muoviamo un osso la mesh ci venga dietro cioè la mesh venga modificata in funzione delle ossa quindi ogni ossa rappresenta la guida sulla quale dovrà muoversi la rispettiva mesh però per fare questo occorre andare innanzitutto in object mode poi si seleziona la mesh quindi clic sulla mesh e poi si fa shift clic sull'armatura vedete che a questo punto la mesh è diventata arancio scuro l'armatura è diventata arancio chiaro giallo quasi e poi si fa ctrl p ctrl p e si fa armature with automatic automatic weights questo è il trucco per fare è tutto qua cioè facendo armature with automatic weights si è ottenuto il rigging della scimmietta su queste ossa volete che vi faccia rivedere il procedimento con cui ho fatto il parenting cioè una volta fatto questa questa cosa compare qui vedete che c'è l'armatura che diventa padrona di Susanna se noi facessimo ctrl z e quindi facciamo la in realtà l'armatura qui non l'ha tolta vediamo un po' se riusciamo a ctrl z non va più indietro perché siamo andiamo in object mode facciamo ctrl z se facciamo ctrl z mentre siamo ah no qui facciamo vabbè comunque credeteci che abbiamo praticamente abbiamo abbiamo semplicemente selezionato quindi andando in object mode abbiamo selezionato la mesh poi abbiamo fatto shift selezionato la armatura poi abbiamo fatto ctrl p e abbiamo fatto with automatic weights fatto questo giro qua ora supponendo che non abbiamo rovinato nulla magari poi facciamo un altro esempio tipo con una specie di batterio così rivediamo il batterio però nel frattempo vediamo una volta che è stata modificata che è stata messa questa cosa in piedi per poterla lavorare bisogna selezionare l'armatura che a questo punto diventa diciamo la nostra colei che gestisce la nostra scimmietta e poi andiamo in modalità la modalità è la pause mode una volta che è stata apparentata si dice si va in pause mode e una volta che si è in pause mode si può prendere un osso qualunque questo lo si può vedere da 7 dall'alto e poi posso fare R per ruotarlo e muovendo l'osso non so se state notando faccio R perché sto ruotando l'osso e ruotando l'osso non so se state notando si muove anche tutte le parti di mesh cioè l'orecchia quindi facendo in questo modo sono riuscito a pilotare l'orecchia quindi l'orecchio si muove così attenzione se per caso io volessi che l'orecchio si muove secondo due segmenti diversi dovrei fare due osse dentro questo vale se volete che l'orecchio praticamente possa piegarsi anche a metà dovreste duplicare questo cioè dividere in due questo osso però per questo per questo giro diciamo non lo facciamo se prendete qualunque altro osso potete fare a quest'altro osso anche r praticamente potete far muovere la mesh all'osso centrale che fa muovere deforma la testa poi si ottiene una deformazione la testa dell'osso iniziale al tanto non muove mai la testa muove sempre la coda quindi se io prendo questo e faccio r vedi che muovi nel senso che lui cerca di muovere di alterare la parte della testa qui associato questa cosa ha poco senso perché non ha molto senso però può avere senso invece muovere tre praticamente muovere quest'osso r e per fare muovere diciamo la parte della chiamiamo la barbetta possiamo far muovere la barbetta oppure possiamo muovere sempre lateralmente il le sopracciglia quindi faccio r e vedete che muovendo questa possiamo far assumere la scimmietta delle espressioni un po' particolari quindi mettiamo magari una cosa un po' meno intrusiva per esempio wire vedete che abbiamo messo il wire e quindi abbiamo la possibilità di fare delle rotazioni e delle alterazioni di vari pezzi che voglio della mia scimmietta ok vi è tutto abbastanza chiaro questa cosa qua? sì allora riferei questo esempio di rigging su un esempio molto molto più semplice che era poi per esempio il batterio tenete conto che per fare dell'animazione serie occorre avere un po' di vertice quindi se noi qui andiamo in object mode e ci creiamo a fianco un oggetto che può essere ad esempio una mesh molto molto più banale che un cilindro e poi lo muovo qua e poi questo cilindro lo ruoto ad esempio ruoto y 90 ok g no g x lo muovo qua e poi questo qui faccio s x lo faccio un pochino più largo e questo cilindro in realtà non è molto adatto per il rigging perché vedete che c'ha i vertici ce li ha soltanto su questa faccia e su questa altra faccia quindi se io dovessi rigare per fargli assumere delle forme strane devo aggiungerci un bel po' di vertici e questo lo si può fare tipicamente con praticamente andiamo in edit mode che siamo già adesso facciamo alt a e poi facciamo come contro l'r mi sembra ecco contro l'r vedete che aggiunge un cerchio in mezzo un edge loop e poi se vado in avanti con la la rotellina del mouse aggiungo una serie di cerchi poi faccio invio e così ho aggiunto un sacco un sacco di vertici allora una volta che ho un bel pochino di vertici quindi in questo momento ad esempio ci ho credo Susanna aveva 1000 aspetta dove Susanna aveva 507 vertici questo coso qua invece ne ha 672 ok quindi avendo 672 vertici questa roba è rigabile allora come faccio a rigare questo questo cilindro semplicemente devo metterci delle osse in mezzo quindi andiamo in object mode e sicuramente facciamo shift A e mettiamo un'armatura e mettiamo un single bone ok single bone come vedete adesso è apparso al centro rigging rigging può alterare la definizione della text però dipende dipende da come si muove la parte rigata se la fai muovere di poco faccio un esempio stupido nel senso che se noi abbiamo la nostra Susanna e noi abbiamo il pose mode e poi prendo ad esempio l'orecchia questa e la faccio ruotare se la faccio ruotare tantissimo tipo così in maniera completamente innaturale vedete che la mesh si diventa si stravolge parecchia quindi le texture possono diventare molto alterate se invece io questa questa stessa orecchia mi limito a ruotarla per esempio così senza farle alterare troppo le dimensioni le texture si alterano un pochino ma dovrebbero risultare ancora accettabili però se ci fate caso la stessa cosa dovrebbe succedere accadere anche in second life in open sim con le gonne ad esempio che se avete un'animazione che altera molto le gambe il texto sulle gomme mesh si alterano diventano un po' cretine infatti il rigging degli abiti come vi sta testimoniando Eva Cry è un massacro proprio per quello infatti adesso non vi sto insegnando il rigging degli abiti perché quello è un massacro vi sto insegnando un rigging che si chiama rigging automatico che come vedete non vi chiede nulla di strano si limita semplicemente a mettere le ossa e a cliccare un tasto e lui fa il rigging in alcuni casi particolari invece occorre fare attenzione ok allora andiamo sul nostro armatura questa che era questo osso che magari lo vediamo come octaedro no allora andiamo in object mode alt a andiamo su questo osso qua e lo spostiamo cercando di metterlo lungo la x e lo mettiamo dentro il nostro cilindro abbiamo visto che lo mettiamo in raggi x così lo vediamo ecco questo osso qua lo ruotiamo ry90 in modo tale da adagiarlo lungo il centro del nostro cilindro quindi lo facciamo così più o meno quindi praticamente vedete che è centrato ora se questo osso andiamo in edit mode e prendiamo un questo e lo estendiamo lungo la x e poi stendiamo la la testa qua e la stendiamo verso l'altra estremità quindi x vedete che abbiamo sostanzialmente uno scheletro dentro questo questo cilindro e questo scheletro è in grado praticamente di ruotare questo quattorno di ruotare questo quattorno attraverso quest'angolo oppure queste estremità qua attorno quindi questo batterio in grado praticamente di chiudersi no? di chiudersi perché? perché le teste sono messe così se si vuole far fare al batterio una animazione più complicata bisogna disporre le ossa in un modo diverso però diciamo già così è interessante a questo punto possiamo andare in object mode selezioniamo la mesh e poi shift l'armatura e qui facciamo un ctrl p e poi gli mettiamo with automatic weights e a questo punto se selezioniamo l'armatura possiamo ripetere il miracolo che abbiamo visto prima e cioè andare in pause mode selezioniamo uno delle ossa vediamo di qua e facciamo la rotazione e vedete che possiamo fargli fare possiamo cliccare sull'osso e farlo ruotare in maniera tale da far contorcere questo oggetto vi è chiaro come tra l'altro già questa cosa qua è interessante vedete che abbiamo partendo da un cilindro grazie all'armatura siamo in grado di fargli fare delle forme che non sono facilissime da produrre però questo è quanto no? ora fin qua mi avete seguito giusto? mettere le ossa mettere il parenting e farlo in pause ora quello che manca per poter fare una un'animazione è bisogna fare le keyframe quindi prendiamo allora cominciamo con beh cominciamo col cilindro giusto per vederlo quindi pause mode pause facciamo clear transform ah no dobbiamo selezionare tutto a poi pause clear transform all vedete che abbiamo rimesso il cilindro in posizione centrale ora a questo punto cosa facciamo? siamo nel frame 1 mentre siamo qua facciamo i facciamo qua facciamo i e poi qui c'è la possibilità di poter mettere dei keyframe allora nel caso dei keyframe non so se si può settare soltanto la rotation perché se noi mettiamo la rotation cominciamo con la rotation poi vediamo se funziona quindi abbiamo messo nel frame 1 abbiamo messo questa rotazione andiamo al frame 50 e poi prendiamo uno di questi ossi 8 anche questo osso qua lo ruotiamo un po' prendiamo questo lo ruotiamo un po' e poi selezioniamo le ossa che sono cambiate o anche tutte se vogliamo e facciamo i rotation allora per vedere se questa abbiamo messo due keyframe e quindi se vedete che se io muovo la mia testina di lettura il cilindro vedete che segue e praticamente man mano esegue praticamente le rotazioni contemporanee delle due ossa se poi vado per dire al 90 e qui prendo questo lo ruoto questo lo ruoto questo lo ruoto e magari lo ruoto anche lungo altre direzioni quindi vado di qua lo ruoto questo lo ruoto ok quindi è una cosa abbastanza complicata faccio A per selezionare tutto I per prendere il frame rotation e quindi a questo punto vedete che abbiamo un'animazione già completamente diversa quindi parte da questo si avvita così e poi si torce un pochino vi è chiaro questo giro? cioè abbiamo fatto praticamente un movimento e questo movimento è quello che poi il nostro cilindro poi ripeterà oltretutto se vogliamo che questa cosa qua questa animazione venga eventualmente esportata su Sketchfab conviene andare in modalità animation qua e nella modalità animation vedete che si ha il dope sheet il dope sheet sarebbe la sequenza di caratteri un po' come abbiamo visto prima ma noi possiamo andare nell'action editor dove gestiamo proprio le azioni cioè quindi le animazioni qui possiamo mettere il nome dell'animazione batterio ok e quando abbiamo fatto questo noi sappiamo che qui dentro c'è un'animazione che fa quel mestiere quindi se noi esportiamo questo cilindro in formato fbx la sua animazione che si chiama con il nome con cui l'abbiamo battezzato adesso viene esportata correttamente adesso non ve lo faccio vedere qua anzi se qualcuno di voi fa queste cose può giocare con Sketchfab per vedere se queste animazioni vengono portate anche in Sketchfab però vediamo invece un altro esempio invece in cui andiamo a prendere la nostra quindi andiamo in Object Mode selezioniamo l'armatura della nostra Susanna andiamo in anche qua andiamo quindi nella posizione 0 e per dire facciamo I in cui registriamo le rotazioni di tutte le ossa di Susanna poi andiamo in una a 40 e per dire cominciamo a mettere un po' di cose quindi lateralmente prendiamo questo osso in Post Mode magari andiamo fatto ora mettere in Post Mode perché possiamo fare questo possiamo mettere così possiamo prendere le famose orecchie facciamo R spostiamo questo di qua R gli spostiamo l'orecchia di là e poi gli mettiamo dell'animazione su queste quindi praticamente la scimmietta si è un po' stravolta adesso così e poi gli facciamo un A selezioniamo tutto i Rotation e se abbiamo fatto bene no perché non abbiamo fatto bene questa è ancora l'armatura andiamo torniamo nella torniamo a zero Pause Clear Transform All perché secondo me dobbiamo selezionare tutte le ossa e poi rimettiamo qua i Rotation ok questo mi sembra che l'abbia presa meglio quindi se l'ha presa meglio adesso facendo così no Pause Clear Transform All ok facciamo i Rotation ecco adesso l'ha presa vedete che adesso ha preso l'animazione nel senso che siamo passati dal frame 1 al frame 40 e lui ha applicato applicato praticamente la trasformazione quindi in questo caso tra l'altro è un po' complicato perché così come ha fatto il disegno adesso ci sono due animazioni in mezzo quindi se noi andiamo in Object Mode poi andiamo all'inizio e poi facciamo il play di questa cosa vedete che si muovono contemporaneamente sia il batterio che la la nostra scimmietta quindi per inciso qui è venuto fuori un una cosa in cui abbiamo messo in un'animazione due oggetti separati che questo potrebbe essere che potrebbe essere anche interessante per farvi vedere come potete animare contemporaneamente più oggetti quindi più che i frame fai e più il movimento potrebbe essere fluido però in realtà il movimento è già fluido di suo vedete perché lui cerca già di fluidificare il movimento in particolare qui un'altra cosa devo dire è che visto che i frame in realtà lui va fino a 250 ma il movimento e arriva fino a circa qua a 90 qui posso dire che il land è solo 90 l'ultimo frame è il 90 e poi posso magari aggiungere delle animazioni alla nostra scimmietta nel senso che vado nella sua scheletro in pose mode e aggiungo qualcosa adesso mi invento qualche cosa questo poi questo qua adesso sto totalmente inventando delle animazioni stupide e posso anche abbassare tutta la testa così no? quindi se tutta è fatta così e poi facciamo A I Rotation ok quindi se noi facciamo il play di questo oggetto qua vedete che lo vediamo meglio qua vedete che praticamente abbiamo un'animazione animazioni che si e si sovrappongono una con l'altra sì 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 questo qui è una tortura di Susanna però immaginate poterlo fare su altri oggetti e magari essendo voi magari più bravi di me riuscite magari anche a fare delle cose che abbiano che siano molto più armoniche quindi qui tra l'altro qui si può togliere in front così vedete le ossa senza che disturbino la visuale ok come mi sembra questa modalità cioè questo incipit sulle animazioni vi è abbastanza chiaro come tra parentesi qui se voi fate se voi andate in object mode e poi fate no come si farà mai facciamo qua object mode e qui si mette smooth e qui si mette lo smooth si ottiene vedete che si ottiene già un'animazione un pochino più interessante e poi vale il concetto che se adesso qui ci siamo concentrati sulle animazioni diciamo senza texture ma se voi su questi oggetti gli mettete già un po' di texture quindi per dire vi mettete quello che vi ho insegnato lo sfondo e poi mettete magari che riflettano ad esempio possiamo anche andare sul materiale e poi dire che questo è il materiale di cilindro che facciamo facciamo materiale e poi potete farlo rosso al cilindro vediamo un po' e poi le solite cose che abbiamo fatto prima tipo provare a metterlo metallico specular roughness zero queste cose qua per vedere il colore ecco vedete che adesso l'ho fatto vedere con la modalità cosa vedete tra l'altro che l'effetto del motore IVE vi fa vedere già il colore con una specie di PBR quindi sembra una struttura carina e se noi mettiamo il materiale della della scimmietta anche qua vediamo forse ce la facciamo la scimmietta ah si c'ha il materiale qua ah materiale questo vedete che ho fatto diventare anche la scimmietta di quel materiale lì ho più impressione del batterio e poi adesso non beh possiamo anche farlo possiamo metterci anche un un background un color vediamo un po' se ce la facciamo mettere un background interessante vi ricordate no? che abbiamo fatto tutto il color environment e poi vedete che abbiamo dato tutto viola invece apriamo blender e gli mettiamo quantani ecco vedete che abbiamo fatto già una scena vedete che già così abbiamo abbiamo un materiale che è stupidino ma vediamo un po' se riusciamo se riusciamo se riusciamo windows toggle windows non ce la farò mai a farlo full screen veramente c'è un modo per renderla full screen non mi viene adesso però vedete che con uno sforzo molto basso mettendo semplicemente degli opportuni materiali adesso a me piacciono i materiali fatti così perché se perché sono danno già un senso interessante però se il materiale lo vedete è un pochino più realistico basta in questo caso mettere una roughness un pochino più alta vedete che diventa un pochino più realistico e magari non è detto che debbano essere metallici gli potete togliere un po' di metallicità e diventano un po' più plasticati gli potete togliere anche lo specular ecco se togliete lo specular diventa diventano tipo quelli di open sim quindi se volete ottenere un po' di effetto nello specular un pochino ci va è un pochino di metallico comunque dà un bel effetto roughness se siete voi quello che vi sembra però comunque la roughness un pochino bassa dà un bel effetto e poi ci sono tutte delle cose raffinate a piacere che si possono fare qua sotto che aggiungono altri effetti di cui alcuni non sono facili da intuire questo dovrebbe introdurre una pellicola attorno una pellicola come dire è come se ci fosse una bava sopra questo sarebbe il clear coat praticamente dà un effetto diciamo di superficie bagnata e altre cose anche roughness questo controlla quanto si vede il bagnato e tutte queste robe qua insomma questo è l'indice di rifrazione si possono ottenere e questo sarebbe anche la trasparenza però la trasparenza si possono ottenere moltissimi effetti dunque le animazioni allora le animazioni di questo tipo possono essere importate con con le ultime versioni del viewer che non mi ricordo si chiama animesh si chiama quindi le animesh fanno proprio questo tipo di mestiere cioè permettono di importare le animazioni di questo tipo dentro second life open symbol avevo letto un articolo qualche settimana fa che diceva che era possibile farlo con alcune versioni di open sim ma non sono così sicuro ma si tratterebbe di investire anche del tempo con l'IQ perché probabilmente c'è la possibilità di farlo e se siete interessati magari telefono poi l'IQ e approfondiamo questa cosa se no in open sim si possono fare delle animazioni non queste animazioni ma quelle tipo i pianeti fatte con un concetto che avevo fatto non so se avete visto i miei ultimi video li avete visti? c'era un vediamo un po' se riesco a trovare i miei video ecco ho visto delle animazioni tipo queste vedete che queste sono delle animazioni ma non sono sono animazioni più semplici in cui si muovono gli oggetti vedete che qui c'è un pendolo c'è un oggetto che fa da pendolo e cosette del genere e questo invece è un un movimento armonico che viene fatto sulla quelli sono anche script no? però sostanzialmente sì sono gli script sostanzialmente che fanno quelle cose solo che anche l'argomento di fare le animazioni su open sim diventa un pochino contorta quindi se veramente vi interessa si potrebbe anche aprire un capitolo su open sim e le animazioni di quel tipo le animash abbiamo detto che su second life funzionano quindi volendo si potrebbe fare qualche esperimento in second life e con la collaborazione di lì può anche provare a vederle in open sim non ci ho ancora provato quindi non non posso garantirvi che ci riusciamo però se vi interessa dicevo prima possiamo approfondire ok allora per stasera direi che l'ho fatto vedere un bel po' di cosine per fare il rigging questo è proprio solo l'ABC anzi l'A dell'ABC vi ho fatto l'A dell'ABC per fare il rigging sugli avatar occorre fare altre cose molte cose in più la mia idea è quella di darvi il minimo per poter fare delle animazioni elementari per capire come sono fatte le animazioni elementari magari vediamo poi qualche cosa con Godot o con Make You ma adesso vediamo nel procedimento sì spero che vi sia piaciuta allora vi direi che vi lascio e ci sentiamo poi per le prossime settimane buonasera grazie grazie